già vedo la green room che mi sembra abbastanza esagerata esagerata in positivo, molto bella, un'organizzazione meravigliosa, fantastica, super precisa un'esperienza molto potente e sono molto felice di essere qui, sono nervoso, sono dormito, sono molto semplice, sono tranquillo, come si dice? mi occupo nuovi spazi e desideri che appartano anche a te e che da sempre sei per te l'essenziale grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti